Attualmente le telecamere operanti sul territorio brunese sono 71, con questo nuovo bando in cui abbiamo partecipato la regione è stato confinanziato per circa 65.200 euro, arriveremo a coprire tutto il territorio del comune e arriveremo a circa 80 telecamere. Le novità di queste nuove è che andremo a completare alla rotatoria, alla cerva, tutti gli ingressi, sia verso via Col di Lana, via Lefantuzzi e via l'Europa. Arriveremo a collegare, quantomeno abbiamo fatto delle prove, la piazza di Castion con le centrali operative e miglioreremo sia le rotatorie del Ponte Belli che della rotatoria di via Montegrappa sull'uscita di Col Cavaliera, andremo a migliorare anche lì perché cercheremo di avere delle letture a targhe su tutte le careggiate in maniera di avere una certezza di lettura e andremo a collegare tutto l'impianto del sistema di videosorveglianza città di Belluno anche la centrale operativa della Polizia Stradale con computer, monitor, tutto. Quindi diciamo che alla fine di questi lavori, che è prevista per la fine 30 settembre di quest'anno, tutto il sistema videosorveglianza sarà monitorato oltre che da noi, dalla centrale operativa dei Carabinieri, dalla Questura e anche dalla centrale operativa della Polizia Stradale.